Henry eccoci siamo questa volta con Annalisa direttamente da Napoli, anche lei è stata con noi ben due settimane Allora Annalisa mi puoi dire quali sono stati i tre punti fondamentali che hanno caratterizzato la tua esperienza qui a Rodi? La gentilezza del personale, il direttore, barrista, cameriere, metro e tutto Poi ovviamente l'animazione Animazione, top E ringrazio Riccardo, Nicola, Danilo, Giulia, Francesca, Gianmarco E un saluto particolare a Bruna e Alessio Senti Annalisa un domani ci ritornerai no? Ti sei trovata bene? Va bene allora noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a un prossimo video Ciao!